E starà convocata per il prossimo 3 marzo alle ore 16 in modalità telematica la Commissione Politiche Sanitarie di Palazzo San Francesco per formalizzare gli indirizzi da assumere sul punto nascita sospeso e la riorganizzazione dell'ospedale all'indomani della manifestazione della CGL o allargato l'invito ai capi gruppo consigliari, ai sindacati, ai vertici regionali e aziendali e ai componenti del Comitato Restretto dei Sindaci spiega il primo cittadino Anna Maria Casini per rendere realmente operativo ed efficace il confronto avere finalmente concrete soluzioni e stanze pendenti che da tempo questo territorio chiede ad Asle Regione i soli che possono e devono oramai dare risposte. Insieme ai sindaci e al Comitato Restretto sono stati presentati fabbisogni e stanze all'assessore regionale Nicoletta Veria al direttore Testa frutto di una ampia partecipazione dei sanitari e degli attori territoriali. Ricordo per tutti il dossier sulla sanità del territorio a maggio e il documento per la gestione dell'emergenza Covid a novembre 2020. Su quello che serve infatti si sa tutto ormai è necessario racconoscere se e quando avremo le risposte investendo finalmente risorse nella salute dei cittadini di aree come la nostra, scrive il sindaco Casini. La commissione era stata chiesta d'onor del vero dai consiglieri bianchi salvati e per rotta.